De Magistris Salvini ancora a scontro, il sindaco di Napoli contro il ministro se vuole fare il capo della polizia comincia a indagare sui 49 milioni sottratti dalla Lega. Intanto oggi la riapertura della pizzeria Sorbillo, devastata da una bomba del racket. Scoperti i furbetti del bollo auto, i familiari disabili erano ormai morti, ma loro hanno continuato a soffrire dell'esenzione. E' quanto scoperto dalla finanza a Napoli, denunciati 12 automobilisti che non hanno versato il denaro alla regione. Poggio Reale, detenuto in goia al cellulare per sfuggire ai controlli, lo ha tenuto nello stomaco per un mese. La scoperta grazie ad una radiografia nell'ospedale del mare dove l'uomo era stato portato per un malore. Effettuata l'operazione in laparoscopia per estrarre il telefonino. Morto nella fuga troppi misteri, il fratello di Antonio Dello Russo, morto in un incidente dopo un inseguimento dei carabinieri a Mugnano, ha presentato un esposto in procura. C'è un vuoto di 10 ore che gli inquirenti dovranno spiegare. Decisivi gli esami sui colpi sparati dai militari. Rosita, forse tradita da un colpo di sonno, sarebbe stata questa la causa dell'incidente mortale costato la vita a Rosita Esposito, 21enne di Casalvelino, nel Salernitano. La giovane si è schiantata con l'auto contro un muro sulla provinciale 267. Domani nel comune cilentano i funerali. Addio gru rinasce Piazza Duomo a Benevento e in fase di smontaggio la gru sulla struttura rimasta incompiuta nella piazza. Il sindaco Mastella dice un altro passo in avanti. Ora dobbiamo ripensare la destinazione, ma servirà un concorso di idee. Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. In apertura ancora lo scontro politico che si riaccende tra De Magistris e Salvini. Oggi il sindaco di Napoli in un lungo post sulla sua pagina Facebook attacca il ministro dell'interno per questa sua abitudine ad indossare la divisa della polizia. Il sindaco si rivolge direttamente al ministro. Crede di essere un poliziotto? Allora indaghi sui 49 milioni sottratti dalla Lega agli italiani. Intanto, dopo una settimana dall'esplosione e dalla bomba che ha colpito la pizzeria Sorbillo, oggi l'attività ha riaperto i battenti. Una grande festa in via dei tribunali, pizze gratis a chi ha dimostrato solidarietà a Sorbillo. Vediamo questo servizio. Stavolta nel suo lungo post del lunedì al quale De Magistris affida quasi sempre la sintesi di una settimana intera, il sindaco di Napoli non riesce a sottrarsi alla polemica che in questi giorni attraversa i social sull'utilizzo più o meno indiscriminato di felpe e giubbotti della polizia da parte del ministro dell'interno Matteo Salvini. La polizia di Stato non appartiene ad una parte. È grave che un ministro strumentalizzi un'istituzione che è garanzia per tutti. Per Demma, il messaggio che passa nella comunicazione è inaccettabile. Non escludo che nel delirio di onnipotenza Salvini pensi davvero di essere diventato un poliziotto, una sorta di capo politico della polizia. E allora a questo punto l'ex PM suggerisce qualche pista investigativa, due filoni in particolare. Il primo, indaghi su se stesso quale segretario della Lega per trovare i 49 milioni sottratti illecitamente al popolo italiano. Il secondo, verifichi bene le persone che stanno salendo sul suo carro. Mi riferisco alle terre che ben conosco, quelle al sud, e scoprirà fatti non certo in linea con la storia della lotta al crimine. La vera stoccata poi è riservata agli alleati a 5 stelle della Lega. Passeranno alla storia per averla catapultata da braccio destro dei Berlusconi a vicepremier del governo del cambiamento, consentendole di raddoppiare i consensi e facendolo percepire come il vero dominus politico del governo. No, dice di Magistris, non mi illudo che questi alleati riescano a farle cambiare idea. Nel frattempo, andato via Salvini, non si abbassa il sipario sulla pizzeria Sorbillo, che questa mattina riapre i battenti dopo la bomba che ha distrutto l'ingresso la scorsa settimana. Un modo per dire al mondo e ai criminali non abbiamo paura. 12 persone con familiari disabili morti da anni continuavano a usufruire indebitamente dell'esenzione del bollo auto e quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza di Napoli. I militari hanno individuato un gruppo di automobilisti che non hanno versato alla regione il bollo malgrado non più esenti a causa del decesso del portatore di handicap oppure invalido titolare del beneficio. L'esenzione dal pagamento del bollo auto aspetta solo nel caso in cui il veicolo è intestato direttamente al disabile oppure ad un familiare che risulti fisicamente a carico del disabile o viceversa. I 12 automobilisti hanno ricevuto un verbale di accertamento con sanzione pecuniaria pari al triplo del beneficio di cui si è fruito illecitamente, ridotta a un terzo se pagata entro 60 giorni dalla data di notifica. Adesso una storia alquanto singolare, ha ingoiato un cellulare di 8 cm per sfuggire ai controlli ed è vivo per miracolo un detenuto a Napoli che per evitare punizioni, per essersi fatto recapitare il telefono ha deciso di ingoiarlo. È sopravvissuto dopo molti giorni di dolori e agonia ed è stato operato in laparoscopia. Ci racconta tutto Simonetta Iepparillo. Quando è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale del mare dieci giorni fa, i medici non credevano ai loro occhi guardando la lastra della radiografia all'addome. Il paziente aveva un telefonino cellulare di 8 per 2 cm nello stomaco. Si tratta di un detenuto appoggio reale che ha ingoiato il telefonino che era riuscito, per motivi da chiarire, a introdurre in cella. Ma accortosi che stava per scattare la perquisizione da parte degli agenti della penitenziaria è riuscito incredibilmente ad ingoiare l'apparecchio. Il telefonino è finito nello stomaco e dopo qualche ora quell'uomo, un quarantenne napoletano, ha iniziato a sentirsi male. Sempre peggio sono trascorse le ore, i giorni, tra vomito, diarrea, dolori addominali. Ma lui continuava a stare zitto. Aveva paura di confessare l'illecito commesso. A quel punto i responsabili hanno disposto il trasferimento in infermeria. Qui l'uomo è rimasto per molti giorni, incredibilmente nonostante le condizioni continuassero a peggiorare, sopravvissuto allo scioglimento delle batterie al litio e al rilascio di altre componenti chimiche nocive. Dieci giorni fa si è deciso il trasferimento ed è emerso l'incredibile retroscena, operato in laparoscopia, fortunatamente fuori pericolo. Incredibile ma vero, anche un altro caso scoperso qualche settimana fa, sempre appoggio reale. I controlli hanno consentito di scoprire un altro telefonino nascosto all'interno di un polpettone spedito dalla moglie ad un marito detenuto. Soccorsi in ritardo e ambulanza non attrezzata. Sarà ora la magistratura a chiarire se si sarebbe potuto salvare Alberto Mazzola Turco, 49 anni, di Napoli, che aveva accusato un malessere per una infezione alla gola nel luglio scorso. Secondo quanto denunciato dai familiari, l'uomo titolare della nota Bracceria del Vomero Cantina La Barbera è stato soccorso con grave ritardo e quando è stato ricoverato al CTO non c'era più nulla da fare. Il 49enne è morto dopo cinque giorni di agonia per una epiglottide acuta. La vicenda è stata resa nota solo ora dalla famiglia che chiede giustizia. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al reddito di cittadinanza sono ancora molti i dubbi. rispetto al provvedimento varato dal governo, i cittadini si dividono in molti si dicono scettici e chiedono più attenzione alle politiche per il lavoro. Non manca però chi approva del tutto la misura. Vediamo. Cittadini divisi sul reddito di cittadinanza dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla misura di contrasto alla povertà sono ancora molti i dubbi rispetto al provvedimento varato dal governo. In tanti fatti chiedono maggiore attenzione alle politiche per il lavoro. Perché dovevano creare il lavoro. Solo con il lavoro si salva l'età. Non è utile, c'è la disoccupazione. Aumento la disoccupazione. Io credo proprio di no perché eventualmente il governo oppure l'esecutivo doveva fare un piano di insediamento con elementi produttivi per aiutare le aree interne. Personalmente credo di no. Non sia un'ottima riforma per l'Italia. Ci vuole il lavoro per tutti quanti. Ma credo che alla fine creerà più disagio che altro. perché comunque il debito è come la coperta. La tiriamo ma usciamo sempre con i piedi fuori. Molto lavoro. No più. Molto. Se non c'è lavoro non c'è soldi. Diversi dubbi sollevati dai cittadini dunque ma c'è invece chi ritiene sia comunque importante aver fatto un primo passo avanti per contrastare la crisi economica. Intanto è un sostegno quindi rispetto a niente penso che qualche cosa possa significare. Potrebbe essere utile soltanto che bisogna organizzarsi bene per vedere in che modo distribuirlo. Penso di sì. Credo soltanto che la gestione diciamo di questa iniziativa debba essere fatta con criterio. Minacciava di ritorsione e licenziamento i suoi dipendenti costretti a percepire uno stipendio inferiore rispetto al lavoro prestato e a rinunciare a permessi e riposi ai crediti maturati. Non solo. Immetteva sui banchi dei supermercati che gestiva pietanze da asporto con alimenti scaduti tra carne maleodorante corretta con additivi, pasta con le blatte, frutta e ortaggi marci. Sono le pesanti accuse contestate dalla procura di nocera inferiore ad un imprenditore della grande distribuzione salernitana arrestato dopo le indagini di carabinieri e guardia di finanza. Sequestrati anche beni per 1 milione e 700 mila euro. Veniamo al caso della morte del 39enne di Mercogliano, deceduto in un incidente stradale dopo un inseguimento con i carabinieri. Questa mattina Gilberto Dello Russo, il fratello della vittima, ha depositato un esposto in procura a Ravellino per chiedere che venga fatta luce su quanto è accaduto. Martedì notte. Vediamo. Non si dà pace Gilberto Dello Russo, il fratello del 39enne di Mercogliano, morto in un incidente stradale durante un inseguimento dei carabinieri. Questa mattina, accompagnato dal suo avvocato, ha depositato una denuncia in procura per cercare di far luce sull'episodio. Nella denuncia che questa mattina è stata presentata al procuratore della Repubblica, uno dei primi punti da chiarire che stiamo chiedendo è proprio questo. Perché? Cioè perché un incidente che viene a lunedì notte, il cadavere arriva alle 7 e mezzo di mattina all'ospedale e i miei genitori vengono avvissati quasi alle 10. Cioè la nostra battaglia che stiamo facendo è quello di venire a scoprire verità e fare giustizia su un ragazzo che sicuramente non era un santo, come forse pochi di noi lo siamo santi perché ce ne sono veramente pochi, quelli sono in paradiso. Però è un ragazzo amatissimo da tutti e questo si può vedere anche dalla cosa virale, dal paese che si è mosso tutto in collette per avvocati. Le indagini continuano, saranno visionate le telecamere posizionate lungo la strada e a breve saranno ascoltati anche due testimoni. Sarebbero comparsi due testimoni pronti a testimoniare, testimoni oculari che viaggiavano sulla corsia opposta appunto. e addirittura ora siamo quasi sicuri, certi al 100% che ha due colpi di pistola addosso quindi si è stato sparato a altezza uomo e non come si presupponeva solo nella macchina. Ti sei fatto un'idea per chi non si è fermato al posto di blocco? L'idea ce la possiamo fare forse tutti, forse aveva bevuto un bicchiere in più quindi paura che gli togliessero la patente, però dimmi te se questo è un motivo per morire? Io non penso proprio. Ed è stato forse invece un colpo di sonno la causa dell'incidente mortale costato la vita a Rosita Esposito, 21enne di Casalvelino nel Salernitano la giovane si è schiantata con l'auto contro un muro. Domani nel comune cilentano ci saranno i funerali, vediamo. Era tornata a casa dopo una serata passata con gli amici ad Ascea nel Salernitano e poi aveva deciso di prendere la sua auto e raggiungere il fidanzato ma non è mai arrivata da lui, Rosita Esposito, 21enne di origini napoletane ma da anni residente a Casalvelino e morta sul colpo ieri mattina presto dopo essere finita con la sua auto contro un muretto forse a causa di un colpo di sonno. Il corpo della 21enne è stato sbalzato in una cunetta l'hanno trovata degli automobilisti di passaggio all'arrivo i soccorsi hanno solo potuto accertarne il decesso Fatalità, la giovane ha perso la vita proprio davanti al ristorante dove spesso lavorava come cameriera sulla strada provinciale 267 tra Acquavelle e Casalvelino la tragedia è ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale sul posto sono intervenuti carabinieri per i rilievi sembrerebbe ormai certa l'esclusione del coinvolgimento di altre vetture la salma dopo l'esame esterno è stata trasferita nella sala mortuaria dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania aperto un'indagine dalla procura di Vallo un destino crudele che ha sconvolto la comunità cilentana Rosita viveva con il fratello aveva perso da anni entrambi i genitori domani alle 9.30 a Casalvelino sarà celebrato il funerale della 21enne Lunedì nero per i trasporti questa mattina le sigle sindacali hanno proclamato lo stop dei mezzi dalle 9 alle 13 con forti ripercussioni sui pendolari lo sciopero è stato proclamato dai sindacati fil ccl cisl will trasporti ugl contro le proposte europee di nuove norme sui tempi di guide di riposo per il personale dei servizi di trasporto passeggeri a lunga percorrenza a Napoli la nm la società che gestisce i trasporti nel capoluogo campano ha aderito allo sciopero dalle 9 alle 13 con lo stop di bus funicolari metropolitana e con forti ripercussioni sui pendolari è giusto scioperare quando c'è la necessità ma almeno avvisare prima penso sia dovuto per chi viaggia a piedi per gli studenti ci troviamo in difficoltà al momento ma è la prima volta che io piglio questo autobus avrei dovuto prendere questo autobus niente da fare piglierò un taxi è comunque tutto inutile perché è una massima disorganizzazione e ognuno lavora in tasca sua qui si vive solo bene se si è giovane e ha molti soldi e di buona salute non lo sapete dove fare una commissione e sono dovuto uscire per forza perché stamattina c'era il fumo ma adesso no io ho sempre lavorato quindi anche gli altri dovrebbero lavorare ma dovrebbero essere anche ricompensati nella maniera giusta è sempre lo stesso problema a Benevento è in fase di rimozione la gru sulla struttura incompiuta di piazza Duomo per Mastella un altro passo in avanti adesso bisogna pensare alla destinazione sentiamo qualche disagio al traffico per la chiusura di via Goduti a Benevento ma per la zona che circonda la cattedrale cittadina si tratta di un momento da ricordare da questa mattina si lavora lo smontaggio della gru che sovrasta l'eterna incompiuta di fronte al Duomo la struttura ribattezzata emblematicamente il Mamozio è così tanto in visa ai Beneventani per intanto non appare più uno sgorbio esteticamente non rappresentativo del gusto della città e peraltro in contrasto con il Duomo quindi vediamo di avviare insomma un'ipotesi ricostruttiva di quello che non è avvenuto in questi 15 anni il sindaco fa appello a chiunque possa avere idee per il progetto l'originale infatti non può più essere realizzato per concludere il lavoro c'è l'incognita fondi da recuperare in questi anni che si sono fatte opere però senza sapere quale valore avessero e quale funzioni avessero come in questo caso è stato detto qua il museo contemporaneo avendo parlato con Palladino mi aveva detto che non esiste infine Mastella riporta l'attenzione sulle emergenze della città altri problemi l'inizia scolastica i problemi del San Nicola però bisogna fare i lavori anche là qualche milione di interventi bisogna fare quindi bisogna dire se il governo ci concede quello che bisogna fare spero che lo faccia anziché chiacchiere un affondo per il governo e uno per la deputazione sannita del Movimento 5 Stelle rea di non aver partecipato alla riunione da lui indetta per le stesse emergenze non hanno risposto, non hanno partecipato mi hanno detto che avevano altri momenti per i quali si potesse discutere tra l'istituzione del sindaco, l'istituzione comunale, l'istituzione parlamentare quindi vuol dire che non gli è fatto assolutamente nulla e di questo ne prende atto, pazienza a Salerno dopo la riapertura delle fonderie Pisano i comitati ambientalisti tornano all'attacco la regione non può scherzare sulla pelle dei cittadini sentiamo la regione deve rivedere la propria decisione mettere una volta per tutte la parola fine ad un braccio di ferro consumato sulla salute dei cittadini di Salerno e della Valle dell'Irno è il monito che Lorenzo Forte presidente del Comitato Salute e Vita lancia al microfono di 8chanel 696 dopo la riapertura delle fonderie Pisano lo scontro sullo stabilimento di Via dei Greci si arricchisce di una nuova puntata l'ennesima di una polemica che sembra non vedere mai la fine facciamo appello alla parte politica innanzitutto a De Luca e al vicepresidente Bonavitacola che stanno scherzando con la vita delle persone è sempre più chiaro che la responsabilità è in mano alle istituzioni come la regione campana che deve tutelare la salute della popolazione era chiaro ed è chiaro il 3 ottobre è stato certificato e poi il 21 novembre l'ha detto anche il TAR che vi era un pericolo mortale per la vita delle persone è assurdo che la regione riapra le fonderie facendo un provvedimento che vuole solamente lavarsi la coscienza perché scrivono nel provvedimento vanno programmate delle chiusure programmate della fabbrica e la fabbrica deve lavorare a produzione ridotta però non stabiliscono nessun criterio oggettivo per controllare questa riduzione dell'attività quindi nei fatti la fabbrica lavora a pieno regime e continua ad avvelenare la regione deve chiudere questa fabbrica le centraline dell'ARPAC a Benevento continuano a segnalare sforamenti delle sostanze inquinanti nonostante i ripetuti blocchi del traffico ordinati dal comune fallito anche ieri lo stop pochi controlli dei vigili e continui sforamenti del PM10 a Benevento ieri il blocco del traffico avrebbe provocato un ulteriore aggravamento dei valori dell'inquinamento il quadro quanto mai singolare emerge dallo studio dei dati raccolti in tempo reale dalle centraline dell'ARPAC strumentazioni dislocate nelle varie zone del capoluogo e che sono entrate in funzione anche dinanzi all'ennesima ordinanza emessa la scorsa settimana per il blocco del traffico in alcune zone della città uno stop imposto dalla legge a causa dei continui sforamenti dei valori inquinanti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 in città avrebbero potuto circolare solo le auto di ultima generazione quelle Euro 6 e vetture elettriche o a gas come accade sempre non è stato però affatto così questo a causa della mancanza di controlli ed ecco perché durante il blocco in città circolavano praticamente tutti i tipi di veicoli a fermare gli automobilisti ieri c'erano solo le transenne nemmeno posizionate al centro della carreggiata ma semplicemente messe a margine della strada pochissimi invece i vigili che pattugliavano i varchi a guardare i dati pubblicati sul sito dell'ARPAC in città si sono registrati i valori inquinanti in continua crescita anche maggiormente durante le ore interessate dallo stop alla circolazione allo Stato quindi le misure messe in campo dal Comune sembrano non essere affatto sufficienti per limitare l'inquinamento a Benevento in Irpinia alto calore governo e regione incaricano l'amministratore Ciarcia di predisporre un piano rifattibilità per salvare l'ente idrico e questo è l'esito del tavolo interistituzionale convocato questa mattina in provincia d'Avellino vediamo tutti vogliono che l'acqua in Irpinia resti pubblica ma da dove debbano uscire i soldi per salvare l'alto calore ancora non è chiaro governo e regione hanno risposto all'appello del presidente Biancardi il dialogo del tavolo interistituzionale si è aperto attorno alla possibilità di un concordato preventivo per l'ente ricorso Europa con dilazione della massa debitoria per poi avviare un processo virtuoso di risanamento l'amministratore unico Ciarcia insiste per un mutuo con la cassa depositi e prestiti il sottosegretario Sibilia non chiude la porta se c'è la possibilità di avere un rapporto di fiducia che voglia tendere appunto a dare la fruizione della risorsa idrica nella maniera giusta senza fare clientele senza metterci sopra i costi degli amici degli amici e delle mazzette varie che negli anni purtroppo hanno devastato questo ente chiaramente il governo è assolutamente a disposizione dal canto suo la regione interverrà con un piano triennale per il riammodernamento della rete idrica ma non contribuirà al risanamento dell'ente dichiara Bonavitacola il tema del risanamento è un tema indifferibile non ci sarà nessun miracolo o nessuna estinzione per fatto divino i conti sono conti l'acqua pubblica così come dobbiamo difenderla deve essere anche supportata da una gestione efficiente e virtuosa al tavolo anche i comitati mentre all'esterno di Palazzo Caracciolo sindacati e lavoratori facevano sentire la loro presenza con un presidio a sostenerli anche Don Vitaliano della Sala che lancia la proposta Irpinia Santuario Laico dell'Acqua fare questa proposta alle Nazioni Unite perché veramente questo bacino idrico che è uno dei più grandi d'Europa diventi sia tutelato sia protetto la pagina della cultura omaggio a Mozart in Irpinia musica per rilanciare le aree interne successo ad Ariano per la straordinaria esibizione dei fiati di Milano i fiati di Milano una perla della musica classica nel panorama nazionale incantano l'Irpinia museo gremito e applausi ad Ariano per il quintetto italiano che ha dato vita ad un concerto davvero emozionante davanti ad un pubblico attento ed esperto tutto ispirato alle grandi opere di Mozart è stato un bel concerto di bella atmosfera abbiamo ritrovato amici con cui ho suonato tempo fa quindi è stato pure piacevole da parte mia speriamo insomma che il classico ariano possa continuare così con un buon afflusso di pubblico e che sia sempre piacevole per questa città è una rassegna questa ormai è consolidata ci sono musicisti di livello altissimo quindi è un piacere venire qui a suonare insomma per questo territorio sono iniziative importanti che possono anche rilanciare la cultura il territorio assolutamente assolutamente anche perché credo che la cultura sia veramente l'unica cosa che può far crescere un paese la cultura e la musica è veramente un elemento diciamo credo indispensabile perché la gente possa riscoprire anche valori nuovi e qua l'ospitalità è una delle cose più belle che uno che viene da Milano o da Crema ha trovato veramente un'ospitalità stupenda mangiato benissimo colleghi fantastici bella musica una bella giornata taglio del nastro al museo Arcos di Benevento per la mostra donne l'esposizione ospita i lavori di due artisti persiani vediamo dolore angoscia tesa sensualità un mondo di espressioni lungo i corridoi del museo di arte contemporanea Arcos di Benevento sono le opere dei fratelli Viska e Amir Sabetta Zarr esposte nella mostra intitolata semplicemente donne ed in programma fino al 24 febbraio prossimo tra le attività tra le attività di Arcos ci sta ancora l'attenzione ad approfondire e valorizzare quegli artisti che hanno fatto la storia dell'arte su questo territorio e che non hanno avuto i giusti riconoscimenti però nello stesso tempo cerco di essere attento a quelle che sono le emergenze internazionali e questi due ragazzi rappresentano questo Viska e Amir Sabetta Zarr due giovani artisti persiani si definiscono loro non iraniani che casualmente si sono trovati su questo territorio per una residenza d'artista a Buonalbergo una mostra che il direttore artistico di Arcos Ferdinando Creta racconta come uno sguardo straordinario ed internazionale sul tema la condizione femminile che hanno conosciuto nel loro territorio per poi sviluppare tutto lo stato di questa condizione a livello internazionale cioè loro studiano la donna in tutte le sue espressioni loro dipingono donne dove il linguaggio sta nelle mani Bene con questo chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia adesso ci sono le previsioni del tempo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.